Gigante Mac, eh? Mi piace! Oh, ehi, ciao, Bob! Mac, ho bisogno che tu vada a prendere gli aggregati rimasti dai lavori della settimana, per favore. Certo che sì, Bob! Grazie, Gigante Mac! Oh, e non dimenticare di metterli nei compartimenti per materiali. Andiamo, Scoop! Devo prendere tutti gli aggregati che sono avanzati e creare la montagna del Gigante Mac! Wendy, questo aggregato è da portare via. Certo! È tutto tuo, Mac! Sì! Grazie, Wendy! Montagna di Mac! Eccomi che arrivo! Gigante Mac! Oh, tranne per il fatto che non è ancora diventata gigantesca. Un gigante ha bisogno di una montagna, non di un mucchietto. Oh! Sì! In cima al mondo! Fantastico! Bello, Mac! Non credevo fosse avanzato un simile quantitativo. Sono il Gigante Mac! E questa è la montagna del Gigante Mac! È da inchino! Ma ti dispiace mettere tutto nei compartimenti per materiali? Ricordi? Oh, sì! Subito, Bob! Grazie, Gigante Mac! Scoop! Questo è il posto dove vengono ideati gli edifici più belli di tutta Spring City! Adoro questo posto! È casa mia! È la casa di tutta la squadra! Hai ragione, Scoop! A volte mi sembra di aver bisogno di tre mani! Hai solo bisogno del lavoro di squadra! Permesso, Bob! Scusa, Bob! Nessun problema, trottola! Attenta! Oh! Oh! Oh, no! Hai perso qualcosa, Mac! E vai! Grazie, Bob! Sempre lieto di aiutarti, Wendy! Altro materiale da costruzione, Bob! Grazie, Dueton! No! Fermo! Non ne avevo così tanta voglia, in fondo! Va tutto bene, Lofty? Certo, va sempre tutto bene, Bob! Forse non proprio tutto, Lofty! Vai così, Scoop! Grazie, Wendy! È sicuro, finirò per battere il mio record di velocità di scavo! Sì, yoohoo! Hai già finito, Scoop? Bob, ho appena battuto il mio record! Il più veloce scavo di un fossato di tutti i tempi! Wow! Congratulazioni! Scommetto che potrei battere anche il mio record del più veloce riempimento! Hai finito, Bob? Non ancora, Scoop! E adesso? No! Adesso? No! Adesso ho finito! Scoop, è tutto tuo! Divertiti a battere il tuo record! Sì, ce l'ho fatta! Il più veloce scavo è il riempimento di un fossato di tutti i tempi! Ero sicura di aver lasciato qui la cassetta degli attrezzi? Sì, penso di averla vista anch'io! Forse l'avrò posata da qualche altra parte! A meno che... Oh, no! Devo averla seppellita! Trovata! Wendy! Ho trovato la tua cassetta! Grazie, Scoop! Ce l'ho fatta! Ho battuto il mio record di scavo e riempimento di un fossato due volte! Due volte, Scoop! Ah, sì, due volte! La grande forza del piccolo Tiny! Ecco a te, Bob! 201 mattoni! Wow! È proprio il numero esatto, Tiny! Come hai indovinato! Non ho indovinato! So quanto pesa un mattone e quel carico sembrava 201 volte più pesante! Sei davvero un esperto di sollevamenti! Posso dirti cosa sto sollevando semplicemente dal tocco! Ne sono sempre stato capace! È un dono da gru, immagino! Posso dirti la forma, di cosa è fatto il carico, se è di legno o metallo o mattoni, come è imballato! Tutto quanto! Ok, allora Tiny, vediamo quanto sei bravo! Sì, adoro questo genere di sfide! Caricami! Ok Tiny, abbassa il tuo uncino! E non sbirciare! Ti prometto che non sbircerò! Prova questo! Assi di legno, sono sei! Sì! Uhu! Ah ah! Te l'avevo detto! Otto tubi! Un'asse, un trapano, una scatola per attrezzi, un cono stradale e... Sì! E? Oh! E c'è un cellulare sopra all'asse! Esatto! Sei incredibile! Ok! Un ultimo carico, Tiny! Ah! Sì! Ok, Tiny! Cos'è questo? Oh, è troppo facile! È il tuo pranzo! E sono dei sandwich con le sardine! No! Ma come? Sì! Come fai ad esserne così sicuro? Sento l'odore, Bob! Perfino da quassù! Oh! Hanno un profumo davvero delizioso, non è vero? Ehm... A dire la verità, non ne sono tanto sicuro! Grazie, Lofty! Il carico è pronto, Tiny! Ci vediamo lassù! Serve la grande forza del piccolo Tiny! Wow! La più alta gru mai vista! Tutto fatto, Tiny! Ehi, Tiny! Vuoi giocare con me a Io Spio? Io Spio? Sai che posso vedere tutto da quassù, vero, Lofty? Non importa! Io sono bravo a Io Spio! Comincio io! Io Spio, con il mio piccolo occhio, una cosa che è... Arencione! Un cono stradale! Non ci credo! Ok, Tiny, tocca a te adesso! Perfetto, Lofty! Io Spio, con il mio piccolo occhio, una cosa che è... Non spiare una cosa dall'altra parte di Spring City, ok? Non lo farò! Io Spio una cosa che è blu! Una cosa blu! Blu? 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 L'ufficio mobile! Sì! No! Oh! Il gilà di Bob! Sì! Ancora una volta no! Di nuovo? Oh! Ma... Ah! Ahem! Oh! Io sono blu! Sono io! Lofty! Tu Spio, Lofty! Sì! Sei tu! Uh! Uh! Tocca a me! Io Spio! Io Spio! Che abbiamo ancora moltissimo lavoro da fare! Prendiamo il prossimo carico, per favore, Lofty! Oh! Perfetto! È vero, Bob! Ci vediamo, Tiny! Posso ancora vedervi entrambi, sapete? Ancora! E... Fatto! Oh! È piatto come un pancake, Rullo! Sei il miglior Rullo di tutti i tempi! Davvero? Oh! Lo pensi veramente, Trottola? Sì! Tu sei una vera leggenda, Rullo! Sei davvero fantastico! Hai appiattito ogni cosa, Spring City! Oh! Il mio pranzo! A volte passo sopra delle cose sulle quali non dovrei passare! Già, ma comunque potresti appiattire qualunque cosa! E scommetto... Scommetto che potresti appiattire perfino quella collina! Facilmente! Senza problemi! Potrei? Voglio dire... Potrei! Oh, certo che potresti! Puoi farlo senza il minimo sforzo! Sì! Sì! Sta a vedere! Oh, sei una vera leggenda! Eh... In realtà... Questo lavoro è un po' più difficile di quanto pensassi! Questa è buona, Rullo! Dico sul serio! Non si sta appiattendo per niente! Certo che no! È un lavoro troppo grande per un solo rullo compressore! Ma Rullo è il miglior rullo di tutti i tempi, Bob! Di tutti i tempi! So che lo è, Trottola! Bob ha ragione! Alcune cose possono essere appiattite, altre no! Quello era di nuovo il tuo pranzo, vero? Scusami tanto! Il mio pranzo è perfettamente appiattito! Ma è ovvio che sia perfettamente appiattito! Sei il miglior rullo compressore di tutti i tempi! Forte! Grazie, Bob! Assomiglia proprio alla pinna di uno squalo, Leo! È un'onda, Lofty! Ma hai ragione! Assomiglia anche a una pinna di squalo! Oh! Attento, Lofty! Immagina se il cantiere fosse pieno di squali! Io uscirei subito dall'acqua! Ti stai esercitando, Leo? Fantastico! Forza, Lofty! Dobbiamo andare adesso! Non dimenticare gli squali! Meglio che metta un po' a posto qui! Ehi! Dove ho lasciato il cellulare? Aha! Eccolo lì! Un attimo! Io l'acqua non la tocco! Oh! Oh! Ehi! Oh! 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 Ok! Oh! Bene, bene! Manteniamo l'equilibrio! Nessuno squalo riuscirà a catturarmi! Oh! Oh! Il cellulare! Oh! Devo rispondere! Oh! 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 Sembra rischioso! Ma ecco qua! Oh! 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 Gli squali! Ciao, Bob! Che mi dici dei leoni? Leoni! Era uno scherzo! Io lo sapevo! Esatto! Comunque i dinosauri hanno fatto scappare i leoni! Che mi dici dei leoni! Oh! 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 Oh!